Mi chiamo Anima, ho un canale YouTube dove faccio tutto quello che mi piace, mi intratiene, mi diverte. Visto che lui è un artista fa molto bene i tagli di capelli, abbiamo messo un po' l'arte di Milano insieme a quello che è l'arte che può mettere lui, creando tagli di capelli. E proprio al Duomo? Certo, ovvio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.